Unire le forze ed attirare ancora più turisti per le tante manifestazioni natalizie promosse sul territorio provinciale. È l'obiettivo che ha spinto le proloco della provincia di Pesaro e Urbino a riunirsi in vari incontri insieme a comuni, provincia e regione, il primo dei quali affanno su iniziativa del presidente della proloco Etienne Lucarelli, mentre il secondo a Monbaroccio coordinato dal presidente Damiano Bartocetti. Ma oltre al progetto diruminato Pesaro e Urbino, il Natale che non ti aspetti, non ci sarà soltanto un unico brand. Gli eventi infatti saranno ancora più collegati tra loro perché ogni iniziativa promuoverà anche tutte le altre del circuito. Nel centro Italia siamo l'unica provincia che propone dei mercatini così importanti e così imponenti nella sua maestosità. Un evento importante che prevede la presenza qui di tanti turisti ma io credo che aver messo insieme tutte queste proloco serva anche da tre d'union con i ristoratori, con gli albergatori perché non solo portiamo turisti nella nostra provincia ma creiamo occupazione, creiamo posti di lavoro e quindi questo credo che per le proloco sia un evento importantissimo da portare avanti, da coltivare ma la mia proposta che è stata fatta nella riunione dove eravamo tutte le proloco e i comuni non sarà solo per i mercatini di Natale ma sarà per tutti gli eventi che si proporranno anche nella prossima estate per poter unificare e portare un pacchetto unico senza che ogni singola proloco faccia la pubblicità per conto proprio e così dimostriamo anche di dare un pacchetto più ampio alle agenzie di viaggio e ai tour operator.